Il segreto, anticipazioni spagnole, la Castaneda e il Val Buena arrivano a Quente Viejo ma non sono più la coppia di prima. Il ritorno di Maria e Gonzalo nelle puntate del segreto è stato confermato. La notizia ha creato molto scompiglio tra i fan, come è facile immaginare. I due attori storici, Loreto Maulen, Maria, e Jordi Conn, Gonzalo, hanno rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo la loro storia d'amore, gravemente compromessa dall'evento drammatico della morte di entrambi i bimbi, ovvero Speranza e Bethlehem. Ovviamente i due dovranno vedersela anche con Fernando Mesia, già stabilmente tornato a Quente Viejo alle dipendenze di Francisca Montenegro. Il segreto puntate spagnole, Maria e Gonzalo non sono più la coppia di prima. Grandi cambiamenti per i nostri amati Maria e Gonzalo, che non saranno più i ragazzi dolci e spensierati che siamo abituati a conoscere. Durante un'intervista a Mondo Plus TV, Loreto Maulen ha rivelato che i telespettatori si troveranno davanti ad una castanida assolutamente diversa, più cupa e tenebrosa causa degli eventi drammatici che hanno colpito la sua famiglia. A Cuba infatti un incendio ha spezzato per sempre le loro vite, portandogli via la piccola Speranza e Bethlehem. Non dimentichiamo poi che Quente Viejo e le sue dinamiche sono mutate in peggio, e Ivalbuena torneranno in un clima storico contraddistinto dalle rivolte operaie e dai subbulli creati dai rivoluzionari. Iordi come, sempre ai microfoni di Mondo Plus TV, ha confermato quanto detto da Loreto, raccontando che il suo personaggio subirà una radicale trasformazione. Gonzalo torna nel segreto e incontra Fernando Mesia. Iordi ha accennato inoltre all'atteso incontro con Fernando Mesia, che non sarà di certo all'acqua di rose visti i trascorsi e il rancore accumulati. Al momento i dettagli sono ancora pochi, ma quello che è certo è che Maria e Gonzalo saranno piedi di odio e il loro ritorno a Quente Viejo avrà motivazioni molto serie, dettate dalla voglia di vendetta. Resta da capire che fine abbiano fatto Beltran, il figlio di Bosco e ne saffidato ad Aurora e Desperanza, la loro figlia naturale. Ad ora, quello che sappiamo è che i due binghi sono rimasti coinvolti in un incendio e che sono stati dati per morti. Nel frattempo, la vita di Fernando Mesia si intreccerà sempre di più con quella di Puglietta, decisa a vendicarsi di prudencio, l'artefice di tutte le sue disgrazie da quando è arrivata al piccolo paesino carica di belle speranze. Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni spagnole dei segreti, ma è così atteso. .